ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono salvatore palomba e oggi parleremo del sirio by alice quindi continueremo la storia del software del videotelefono di telecom italia sirio by alice in realtà non è altro che l'ennesimo videotelefono telecom italia credeva veramente molto in questo progetto e decise in tutte le forme possibili di portare nelle case delle persone un videotelefono io vi posso dire almeno nella mia città la generazione famosa di videotelefoni finì col voip infatti nella mia città di questi videotelefoni non ne ho visti completamente venne a conoscenza da piccolino di questo dell'esistenza di questo telefono da internet e dei vari forum e delle varie immagini che giravano a me da piccolino questo videotelefono non piaceva tantissimo perché non aveva gli sfondi e le grafiche dei videotelefoni classici quindi in qualche modo non suscitavo interesse oggi poi alla fine mi diciamo crescendo mi è piaciuto il design l'ho preso e devo dire comunque che ha molte cose carine allora intanto perché si chiama sirio by alice non poteva chiamarsi videotelefono by alice diciamo che la storia un po contorta la mia personale ipotesi che ovviamente non è verità assoluta è che telecom decise di cambiare il nome per per ispirare fiducia infatti questo progetto qui il progetto del videotelefono fu un progetto che ebbe molta infamia perché soprattutto con i vari modelli difettosi la gente cominciò ad allontanarsi da questo marchio di conseguenza molto probabilmente il nome sirio visto che comunque nel mondo telecom sirio è un nome di tutto rispetto visto che rimanda a telefoni comunque di un certo spessore che avevano un certo appunto rapporto qualità prezzo e gli utenti forse secondo telecom diciamo poteva attirare sentendo appunto il nome sirio più utenti rispetto a quanto potevano fare col marchio videotelefono ma questo è è una mia ipotesi è una mia ipotesi un'altra ipotesi che potrei dire diciamo che un'ipotesi alla quale credo di meno rispetto alla prima è che telecom abbia deciso in qualche modo di allargare la collezione sirio e mettendone uno anche capace di fare videochiamate potrebbe starci ma non ci credo tanto a dire il vero il videotelefono sirio by alice è basato sul voip il voip infatti aveva la versione software rel 1.01 e questo software qua che è la rel 3.00 è praticamente identica alla versione software del suo predecessore se non fosse appunto per le diciamo per le grafiche diverse ovviamente come possiamo notare l'orologio esattamente come il voip e come nel promelit appunto lampeggia perché non è impostato è una cosa che mi ha fatto molto diciamo stupore vedere anzi non vedere e la data infatti sirio by alice non troviamo nella scritta telecom italia né nella data quindi come si fa allora la scritta telecom italia non c'è in questo software non c'è telecom italia è soltanto la scritta rossa telecom italia è soltanto nei vecchi videotelefoni in questi videotelefoni qua la scritta telecom italia ripeto ancora una volta non c'è la data si può mostrare basta andare su imposta display data e numero visualizza data attiva ecco a fondo dice data attivata e la possiamo vedere 0101 2007 allora andiamo avanti appunto abbiamo menu messaggi lista chiamate servizi telecom italia immagini e suoni imposta agenda la prassi è sempre quella allora messaggi abbiamo sms anche in questo telefono mms di fabbrica ovviamente essendo basato sul voip email fax cancella servizio 404 e impostazioni sms abbiamo scrivi classici scrivi ricevuti personali cancella scrivi cioè testo 0 su 612 abbiamo invia salva inserisci icona inserisci logo disegno inserisci melodia notifica numero di terminale esattamente come il suo predecessore infatti ora vi faccio vedere in diretta io ora scrivo un sms 0 su 612 pure qua invia salva inserisci icona inserisci logo disegno inserisci melodia notifiche numero di terminale qua è esattamente la stessa cosa ovviamente la grafica è diversa infatti la grafica giocattolosa diciamo una grafica molto infantile quella del videotelefono e a me io ovviamente sono emotivamente legato a questo tipo di grafica perché io sono cresciuto con questa e abbiamo appunto questo blu acceso con la selezione delle opzioni rossa e il testo diciamo tutto diciamo la barra del testo rossa diciamo che questa cosa qua è in qualche modo resa in maniera più seria diciamo meno giocattolosa nel stile obelice infatti è prevalentemente bianco la selezione è blu ovviamente come potete vedere anche le icone sono comunque più serie diciamo più più da ufficio rispetto a quelle del videotelefono infatti abbiamo messaggi una busta così mentre invece qua avevamo questa quindi comunque guardate le icone di questo telefono e guardate le icone di questo telefono qui allora ovviamente anche qua mms abbiamo crea ricevuti personali cancella crea titolo mms esattamente come il voip inserisci immagini inserisci suono inserisci testo inserisci titolo e possiamo mettere anche più pagine ora c'è una cosa il voip aveva praticamente i sfondi troppo pesanti magari questo forse che ha tipo degli sfondi più leggerini magari possiamo riuscire a fare quello che non abbiamo fatto l'altra volta ovvero quello di mettere un due pagine di mms quindi inseriamo l'immagine immagini di sirio il logo pesa pochissimo quindi 11 kilobyte immagine inserita come potete vedere ora vi faccio vedere l'avete già notato ma poi ne parleremo quindi inserisci vediamo dov'era inserisci pagina ecco inserisci pagina inserisci immagine immagini di sirio ok si può fare come potete vedere adesso abbiamo due pagine vedete vi già il logo e entrambe le pagine salvo le mms prima di uscire esattamente come il voip no crea ricevuti personali cancellati ricevuti per cose ricevuti personali per cose salvati cancella per cancellarli email anche in questo caso scrivi personali cancella non c'è ricevuti perché segue comunque tutte le regole degli altri videotelefoni ovvero che il videotelefone appunto non può ricevere email stessa cosa per i fax 0 su 110 identico al voip 0 su 110 quindi il software il software è lui proprio e gli hanno cambiato le grafiche hanno fatto hanno cambiato le grafiche hanno messo qualche widget nuovo però alla fine il software di base è lui una cosa che vi dico è che questo videotelefone è basato su linux adesso perché c'è scritto sotto la base del telefono c'è scritto powered by linux è basato su linux si sistema operativo che utilizziamo sui computer però credo sia basato su linux soltanto per i widget di alice quando si attiva il voip ovvero quelle quelle gadget che permettono di vedere cosa che il voip non aveva quello di vedere appunto le notizie il meteo eccetera 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 poi cancella sms mms mail fax o tutti i messaggi in una volta come il voip uguale servizio 404 chiama il 404 impostazioni sms mail fax esattamente come il voip mms e numero di terminale alla fine è sempre la stessa storia lista chiamate chiamate verse chiamate ricevute chiamate effettuate cancella non è mai cambiato sta cosa c'è e da e da i tell che è così comunque va bene allora chiamate verse chiamate ricevute chiamate effettuate tutte le chiamate cancellando tutte le chiamate tutte le chiamate cancellate come il promedit come il voip e torna alla home vedete torna dalla ora vi faccio vedere una cosa ovviamente l'avete notato anche voi non c'è il fumettino infatti se io per esempio di soccola cancello tutte le chiamate mi dice per esempio nessuna chiamata c'è questo fumettino qua mentre invece nel sirio by alice è soltanto una striscetta come avete visto vedete non c'è il fumettino solo una striscia e l'icona è lì come potete vedere anche l'icona non è più quella classica diciamo dei videotelefoni questa del telefono con la rotellina con il telefono a disco ma è un'icona che ricorda in tutto e per tutto proprio il telefono il sirio by alice quindi più diciamo personalizzato poi servizi telecom italia abbiamo ultima chiamata ultime chiamate segretaria telefonica 12 54 loghi e suonerie trasferimento di chiamata avviso di chiamata ora esatta servizio sveglia chiaro hotel chiamata urgente servizio 5 audio disabilitazione multinumero scritto col trattino quindi la selezione quella nuova chi è e nascondi numero esattamente come gli itele il promedit il voip se io per esempio nascondo numero a 41 in questo caso quello che ho messo io devo dire che questa cosa mi piace che ci sia il logo telecom italia invece di quest'icona qua e sarebbe una muccia di servizi però non l'ho mai capita sticola diciamo non mi è mai piaciuta tanto ce l'ha pure alatino però dico non mi è mai piaciuta tantissimo quest'icona qua questa qua la preferisco perché c'è il logo di telecom italia comunque e ovviamente anche al 2 new come ben sapete ha le nuove icone del 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 telefono appunto del dei servizi telecom italia e per tutto il resto quindi comunque hanno seguito una logica diciamo anche per alatino perché come come vi ho fatto vedere l'altra volta alatino 2 new ha le stesse icone e le stesse grafiche del sirio baelice poi andiamo avanti immagini andando appunto su immagini e suoni troviamo immagini suoni video chiamalo gli suoneri esporta cancella esattamente come nel voip quindi anche questo videotelefono supporta appunto le schede sd ovviamente anche in questo caso vale la regola sd hc no soltanto sd normali fino a un gigabyte allora immagini abbiamo foto scattate immagini di sirio e immagini ricevute quindi foto scattate nuova foto galleria foto nuova foto per avviare la macchina fotografica abbiamo anche qua l'autoscatto come satan come nei nei appunto nei voi per nei promedit abbiamo qua il tastino appunto poi abbiamo anche il menu qualità foto alta o bassa esattamente come nel volo immagini di sirio abbiamo stavolta questi sfondi qua bj logo quindi gli sfondi che questa è una cosa che cambia gli sfondi non sono più chiamati come negli altri videotelefoni quindi in questo caso viene chiamato appunto toscana terra quindi non vengono più chiamati per esempio come nel voip e terra auto case fulmine toscana ma in questo caso vengono chiamati col nome del file quindi bj logo in realtà anche questi qua sono i nomi dei file infatti se io vado qua e faccio dettagli dove dettagli eccolo qua dice toscana.png quindi in realtà questo è il nome del file però qua non sono appunto quello che intendo che non sono appunto in italiano ma sono appunto proprio diciamo un nome di file quindi bj logo che sarebbe questo qua bj credo stia per background a sei sfondi però questo qua bj logo bj 01 questo qua bj 02 bj 03 bj 04 e bj 05 possiamo fare le stesse identiche cose del del voip appunto invia con mms poi esporta e memoria esterna imposta come sfondo segna contatto ordina e dettagli nome bj 05 punto png questo videotelefono risale al 2007 allora suoni abbiamo auto registrati melodi di sirio melodi ricevute quindi auto registrati avvia subito il registratore audio galleria dice e ritorna appunto qui poi abbiamo le melodi di sirio ovviamente come nel voip e come nel come le melodi del telefono invia mms esporti memoria esterna imposta come suoneria assegna contatto ordina dettagli dettagli per esempio denso 1 punto web 23 11 2007 dimensioni del file ok melodi ricevute quelle ricevute appunto via mms oppure le altre melodie che sono appunto quelle lì ricevute appunto tramite gli sms con i luoghi disegni poi abbiamo vabbè video registrati apre registratore video video ricevuti i video che riceviamo via mms che non si possono ricevere via sms poi chiamano le questionerie chiamano il 41412 si lo so che bene siete accorti poi ne parliamo di questo poi esporta appunto nessuna memoria esterna inserita cancella abbiamo immagini suoni video oppure tutti poi imposta imposta abbiamo imposta telefono o imposta videochiamata imposta telefono abbiamo sempre suoneria volume ascolto da ora display caso ufficio quindi profilo casa e profilo ufficio esattamente come nel voip e nei promo di 3 giornati blocco chiamata lingua menu modalità scrittura modifica pin caratteristiche tecniche di memoria r7 quindi melodia abbiamo appunto melodie ricevuti autoregistrati il volume stato suoneria per quando deve squillare suona dopo uno squillo due squilli tre squilli quattro squilli poi chi è vocale come nel voip filtro nomori riservati filtro vip poi volume ascolto abbiamo il volume di ricezione date ora per impostare data dell'ora display abbiamo sfondo quindi foto scattate immagini di studio immagini ricevute colore menu blu verde o sabbia fa vedere l'anteprima come il promenet e come il voip data e numero per attivare la data la visualizzazione della data attivo disattiva e risparmio energetico che sarebbe il salva schermo poi andiamo appunto avanti abbiamo casa ufficio profilo casa e profilo ufficio con tutto ciò che ne comporta quindi anche anche i servizi telecom italia cambiano in servizio ufficio tra l'altro l'icona è la stessa del voip e appunto abbiamo queste qua segretive telefonica direzione di chiamata ovviamente abbiamo gli stessi servizi del voip che non faccio vedere perché comunque ci sono anche già nel video del voip quindi trasferisci chiamata trattieni chiamata o conferenza nel voip questo l'ho approfondito quindi magari andate a vedere quel video lì in modo che evitiamo appunto di creare un video lungo uguale dove dico le stesse identiche cose per voi non per me allora poi abbiamo poi quindi casa ufficio rimetto il profilo casa già non ho rimesso ok blocco chiamate i soliti il pin sempre 15 90 quindi solo di 5 prefissi prefisso 1 prefisso 2 prefisso 3 prefisso 4 prefisso 5 lingua menu abbiamo i soldi italiano inglese tedesco e francese come il voip modello della scrittura il t9 modifica pin vecchio pin e nuovo pin per cambiare appunto il pin del videotelefono poi abbiamo caratteristiche tecniche abbiamo hardware software e configurazione di rete quindi a differenza c'è una differenza col voip per esempio qua è scritto adsl wifi e adsl ethernet se io vado nel voip invece e cerco di configurare adsl quindi il vero e proprio voip c'è in linea telefonica o adsl quindi quando io vado qua appunto sulla configurazione di rete qua io premo ok e mi dice linea telefonica o adsl qua invece dice subito linea telefonica attiva mentre invece qua devo premere ok stato attiva quindi io se vado su adsl stato disattiva faccio attiva attivo adsl attendere prego ora non c'è il cavo ethernet quindi qua unisce le informazioni dice inserire un cavo ethernet o un dispositivo wifi quindi è un'impostazione o per l'ethernet o per i wifi mentre invece in quelli nuovi abbiamo adsl wifi passare la modalità adsl wifi in quello nuovo questo è l'anserio abbiamo questa funzione controllo il modulo wifi in corsa attendere prego qua cerca solo il modulo wifi caso mai dice adsl non attiva in caso ethernet controllo del cavo ethernet in corso attendere prego vedete invece ora inserire il cavo ethernet e ora si ora compare che impiega un po di più il cavo ethernet ecco infatti inserire il cavo adsl adsl non attivo quindi questa è una cosa che cambia hardware software abbiamo mostra versione hardware software verifica aggiornamenti o aggiornamento software quindi versione software 3.0.0 hardware 3.0 quindi questo è basato sul promelit quindi la 1.0 è il promelit la 2.0 è il voip e la 3.0 è questo qui dettagli abbiamo tutti questi vari cose che non vado a leggere perché sono impossibili ci impieghiamo due ore ogni volta sempre per voi non per me dico però ormai li conoscete tutti ma vedete ci sono alcuni componenti che sono da rel 1.00 il che mi fa pensare che vediamo per esempio faccio un esempio tttl tts meno se è anche uguale qua dai io ora ho preso l'unico il tts si vedete rel 1.00 quindi questo componente è stato proprio preso dal voip molte molte cose sono prese e spiaccicate sul sirio baialice le hanno prese dal voip e le hanno spiaccicate sul sirio baialice quindi il software alla fine è sempre quello e anche questo ce lo fa mostrare ovviamente il kernel c'è l'update l perché è uguale al voip e poi c'è il kernel che è la 3.00 quindi quello di ora quello di questo telefono qui poi abbiamo verifica aggiornamenti e aggiornamento software quindi per avviare la procedura di aggiornamento memoria abbiamo anche qua memoria esterna inserita qui c'è nessuna memoria esterna inserita hanno risolto quel bug perché qua l'icona del coso della memoria esterna è questa esporta oggetti ecco dice nessuna memoria esterna inserita questa qua è l'icona dell'aggiornamento in realtà questa icona non dovrebbe starci qua è un bug un errore di programmazione perché in realtà ci dovrebbe stare quest'icona qua questa qui però se io vado qua in questa funzione qua compare l'icona d'aggiornamento che in realtà non c'entra niente e in realtà questa cosa qua è un appunto bug e l'hanno sistemata nel sirio baialice infatti l'icona è uguale l'icona identica sia qua che qua e questo l'hanno appunto risolto del resto tutto uguale vi faccio vedere anche che ha la stessa memoria del voip identica memoria totale appunto memoria totale 55.1 megabyte e questa qua è pure 55.1 megabyte quindi il sistema operativo del voip pesa memoria libera 8.7 megabyte quindi tutto quello che c'è nel voip pesa 46.4 megabyte il sistema operativo mentre invece il sistema operativo del sirio baialice pesa 49.2 megabyte e ci sono 5.8 megabyte disponibili quindi abbiamo in qualche modo possiamo in questi telefoni sapere quanto pesa il sistema operativo e ovviamente ovviamente appunto quello del sirio baialice pesa un po' di più anche perché ci sono i widget ci sono le nuove melodie e ci sono i nuovi sfondi e c'è meno memoria libera reset abbiamo appunto rubrica impostazioni parametri DSL come nel voip e sistema intero poi in imposta videochiamata possiamo fare dimensioni video remoto grande remoto locale piccolo remoto grande locale piccolo fluidità video per quanto deve andare veloce l'immagine ricordiamo meno fluidità maggiore qualità e meno velocità 5 meno qualità e più velocità visualizzazione proprio numero attivo disattivo durante la videochiamata il proprio numero non sarà visualizzato agenda abbiamo nessun pro memoria impostato ovviamente date d'ora non impostate quindi dobbiamo impostare prima la data dell'ora dice date ora impostate anche qua possiamo fare singolo oppure giornaliero esattamente come il voip vedete singolo giornaliero dice ecco qua dice ora non valida dice ora non valida quindi 0246 metto un'ora ah non è 0446 scusate 0446 metto gli iscrivi e qua possiamo fare salve in 16 immagini se ci sono in 16 video esattamente come nel voip ovviamente il funzionamento dell'agenda l'ho già fatto vedere nella puntata precedente non ve lo faccio vedere anche qua perché risparmiamo tempo risparmiamo minuti anche perché non credo che è un video lunghissimo dove faccio vedere le stesse cose del voip se le se lo possa vedere qualcuno quindi in questo caso diciamo faccio vedere i cambiamenti quello che c'è bene o male come il software ma se una funzione suona esattamente come il voip non è inutile è inutile farla rivedere che è identica allora poi 0 io l'unica cosa che vi faccio vedere è che l'icona è questa qui l'icona della sveglietta quella che qua c'è il libro mentre invece l'icona è qua e non è come il voip che è a sinistra ma è qua che è a destra l'icona è questa qui poi sperando che non suoni l'agenda poi e lo li cancello l'ultima cosa come potete vedere appunto non c'è il fumettino e a differenza degli altri videotelefoni non c'è l'icona del della preselezione che sarebbe questa qui vedete questa è l'icona della preselezione e questa è l'icona della chiamata aperta diciamo nel sito bialice non c'è l'icona della preselezione e non c'è l'icona della chiamata aperta c'è soltanto c'è soltanto quando appunto stiamo in chiamata effettiva compara l'icona del sito bialice ora se io lo chiamo possiamo a differenza del voip che possiamo soltanto mutarlo facciamo muto quindi possiamo anche come vi ho fatto vedere possiamo anche smutarlo e mentre come potete vedere nella tastiera qua non so se si vede la luce è poca c'è scritto il tasto non è video il tasto è video on quindi ovviamente se io richiedo video chiamata non dice è stata richiesta una video chiamata per accettare prima il tasto video ma dice è stata richiesta una video chiamata per accettare prima il tasto video on e ovviamente la procedura di video chiamata è la stessa degli altri video telefoni vedete la barra è esattamente come il promette come il voip e la voce quindi è un video telefono in tutto e per tutto ok chiudo facciamo video chiamata terminato bene ragazzi questo è il siro by alice io vi ringrazio per la visione ovviamente appena me lo fa fare gli strumenti multimediali sono gli stessi quindi abbiamo abbiamo per esempio appunto vediamo un po' macchina foto registratore audio registratore video che sono gli stessi del voip e quindi ragazzi io vi ringrazio per la visione grazie per tutto per il supporto e alla prossima grazie per la visione